Quindi non sai nulla di Duolingo? Intendi l'app per imparare le lingue estere? Lascia stare! Ho interrotto qualcosa! Non proprio! Avete scoperto cosa è successo? Purtroppo no! Per sicurezza meglio controllare anche nei magazzini dello staff! Avete dimenticato Misato? Oh no! No, no! Fini il bagno 6, mancato da solo! Sapete, questi demoni che abbiamo affrontato, non penso fossero poi così diversi da noi! Di cosa stai parlando? Tranquillo Peter! Abbiamo discusso prima, è pulito! In ogni caso fai bene a pensarlo! Dopotutto! Oh perfetto! Ci voleva solo un blackout! Sto treno è proprio una merda! È durato meno del previsto! Tutto ok ragazzi? Suppondo dici? Vado ad accertarmi che anche nell'altro vagone sia tutto ok! La vostra amica si sta prendendo i suoi tempi! Solitamente non sta così tanto tempo al bagno! Forse non sarà la più educata delle scelte! Ma andiamo a controllare! Mi sto cagando sotto! Il bagno è anche libero! Pensi che dovremmo? Se si fosse qualcuno lo avrebbero chiuso! In fin dei conti cosa mai potremmo trovarsi dentro? Furono quelle le fatidite parole prima della terribile scoperta! Ma che? Non è possibile! Ragazzi! Tutto o merda!